Eccoci qua cari amici di Meteo Giuliacci, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Tanti proverbi per il mese di aprile, aprire dolce dormire perché le temperature aumentano, clima mite e le giornate si allungano, ci viene voglia di riposare un po' anche il pomeriggio oppure aprile non ti scoprire e questo ci fa capire che anche in aprile ci possono essere, così come nei giorni scorsi delle irruzioncine di aria fredda, ma adesso è la volta di nuovo del bel tempo e del tempo mite, quindi di nuovo le temperature in queste giornate torneranno ad aumentare, ma non lirudiamoci, probabilmente cambierà ancora il tempo, ma intanto sarà un giovedì con un po' di nuvole sulle due isole maggiori e delle velature al centro nord, ma nel complesso sereno o poco nuvoloso, quindi un'altra bella giornata e tra l'altro con temperature soprattutto le massime, anzi soltanto le massime in generale, rialzo, arrivederci!